Cosa è la Costituzione? Per come la farete vivere, per come la difenderete e per l'attuazione della Costituzione. Sembra un discorso fatto adesso, eppure era fatto decenni e decenni di anni fa, nel pieno del Novecento. Se pensiamo che la Costituzione quest'anno fa 70 anni, verrebbe da dire che la Costituzione è un po' anziana, un po' vecchia, un po' malandata. Invece l'abbiamo dovuta difendere un anno fa, il 4 dicembre, per chi ci ha creduto in quella difesa, ma l'amarezza è che la Costituzione è molto lontana dall'essere attuata. Quindi è una Costituzione, verrebbe da dire infantile, nel senso che stiamo appena nella fase preadolescenziale. E mai come in questo momento storico ci vorrebbe uno scatto di maturità di questa Costituzione. In un momento in cui si ritorna a parlare, in una campagna elettorale davvero brutta, rancorosa, con scarsi valori, si parla di razza, di difesa della razza, si parla di colpire il diverso, si parla di assenza dei valori di fratellanza, solidarietà e uguaglianza. Quindi sembra addirittura tornare indietro a un'epoca pre-costituzionale, in un'epoca in cui i valori costituzionali non c'erano e chi lottava per la libertà veniva represso e veniva punito. Quindi credo che un vero manifesto che possa unire i veri democratici di questo Paese è proprio la Costituzione. Ce n'è traccia in questa campagna elettorale, devo dire molto poco. In questa città però, con tanti problemi e tante sofferenze, spesso con una narrazione mediatica non generosa, i valori costituzionali si sentono e si avvertono e vivono nella città, vivono negli atti amministrativi, vivono in tante menti, in tanti cuori e in tanti corpi. Quindi noi pensiamo che questa città continua a essere, come fu nel lontano 1943, la prima città d'Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dalla dittatura nazifascista, credo che rappresenta una prua di quella maturità costituzionale che gradiremmo avere anche nei discorsi di tante persone che si candidano ad entrare nel Parlamento della Repubblica Italiana.